a salve signorina come posso aiutarla non si ricorda di me prof sono bianca bianca pattaro bianca non ti avevo neanche riconosciuta come stai ecco ricordo che lei cioè volevo dire che te sei un grande appassionato di manoscritti antichi e stamattina mentre stavo facendo jogging i riba al mare è veramente un bel libro riesce a capire cosa c'è scritto al primo sguardo sembrerebbe il pasto io sono kalimbo signori della conoscenza con lui che conosce la risposta in principio stai bene nooo 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 nooo